Amici di Tecnandroid benvenuti, oggi andiamo a vedere come effettuare un backup del nostro smartphone Samsung utilizzando Samsung QS la procedura è semplice, basta scaricare Samsung QS direttamente dal sito ufficiale e collegare il nostro smartphone direttamente al PC ok mettiamo da un lato smartphone, vi faccio vedere sul computer, questa è la schermata, andiamo a cliccare su backup e ripristino in questo modo selezioniamo tutti gli elementi di cui vogliamo effettuare il backup mettendo il relativo segno di spunta e premiamo il tasto e segui il backup ecco che il backup è partito, una volta effettuato il backup di tutti i dati possiamo ripristinarlo facendo la stessa procedura ma cliccando su ripristino dati per oggi è tutto, continuateci a seguire su www.tecnandroid.it grazie